partenza con san bernardino allo steccato con guglielmi buona e buona la terza partenza con lotta al comando tra san bernardino e la flora san bernardino al comando con la flora all'esterno che tenta subito l'attacco guglielmi e bitti al comando seguiti da sant'ambrogio e da legnarello sempre san bernardino all'interno che passa al comando davanti alla flora cerca di inserirsi allo steccato c'è lotta tra i due sant'ambrogio e flora sant'ambrogio e flora in lotta a canita per conquistare la seconda posizione sembra riuscire sant'ambrogio nel tentativo intanto anche cersosimo per legnarello si infila all'interno gran bagarre alle spalle di san bernardino alle spalle di san bernardino con guglielmi che ora è attaccato da cersosimo poi la flora e sant'ambrogio sempre san bernardino ora legnarello che gli si affianca e va ad iniziare l'ultimo giro con i due decisamente e nettamente al comando sulla flora e su sant'ambrogio sant'ambrogio che appaiono ormai tagliate fuori dai giochi in coppia arrivo in parata per entrambi san bernardino con guglielmi e legnarello con cersosimo questo l'ordine d'arrivo della seconda batteria che estromette dai giochi per la finale la flora e sant'ambrogio è stata una seconda batteria entusiasmante con una lotta a tre alle spalle di san bernardino alle spalle di federico guglielmi che ha condotto da un capo all'altro senza grandi problemi ad approfittare della lotta tra sant'ambrogio e la flora è stato un attentissimo e quanto mai sul pezzo alessandro cersosimo che nel corso del penultimo giro si è infilato all'interno ed ha conquistato la seconda posizione che dà diritto alla finale